Credenze popolari, tradizioni, codici e superstizioni tramandate dall'antichità. Una faccia emblematica e suggestiva del Molise legata a riti atavici e a simbologie. Argomenti sviscerati nell'interessante convegno organizzato al Musec di Sernia, scrigno prezioso di costumi, monili e oggetti che, meglio di qualsiasi scritto, lasciano testimonianze tangibili di un passato ricco di storia ed arte. Questa è un po' la missione che il museo si è data, che non è soltanto conservativa, sia pure quella rimane un fatto molto importante, ovviamente, la conservazione di reperti, ma soprattutto la conservazione di memorie. E quindi lo spunto del costume è da adito veramente a mille possibilità di aprire proprio un discorso di intavolare degli incontri sulle tradizioni popolari in genere, su questo enorme bagaglio che è la nostra cultura popolare, che oramai, sì, alcune cose si vanno perdendo alla memoria. Il museo è il luogo in cui farla ritrovare a noi stessi. L'incontro proposto sabato pomeriggio, rivolto all'appassionata platea, ha trattato in lungo e largo i temi relativi ai comportamenti popolari nei frangenti degli eventi luttuosi. Non del tutto scomparsi in alcune zone della regione dove certamente hanno perso quella valenza originaria, soprattutto nelle nuove generazioni. Ma, ritornando al passato, non vi era famiglia che nel giorno della ricorrenza dei morti non mettesse in atto dei veri e propri rituali, anche in cucina. Si facevano i piatti un pochino diversi, legati ai legumi, perché sono simbolo della rinascita. E quindi, sagna e fagioli, o sagna e altri legumi, era il piatto piuttosto tipico. Era questo, ma per esempio a Carovilli c'era invece sagna e jerve, cioè il cavolo, già con la prima gelatura, componeva il piatto tipico di questa giornata. E in quell'occasione c'erano appunto la riunione di familiari e parenti e amici che mangiavano lasciando un posto preparato totalmente per i morti che potevano partecipare. Loro non li vedevano, ma sapevano che sarebbero stati presenti in quell'occasione. Oppure si facevano addirittura nel Venafrano tavole totalmente apparecchiate solo per i morti con i piatti che loro preferivano da vivi. Spesse volte non si lasciavano le posate perché se colui che apparecchiava sapeva di essere andato contro la volontà del defunto, poteva il defunto vendicarsi con un oggetto contundente nei suoi confronti. Nella civiltà contadina il costume nunziale era l'abito più bello che una donna potesse indossare nella sua vita. Oltre al matrimonio veniva indossato in occasione del battesimo del primo figlio maschio ai matrimoni dei parenti più stretti e sul letto di morte. Perché oltre a voler apparire bella agli occhi di Dio nel giorno del trapasso, nella cultura popolare si pensava che l'abito nunziale indossato proprio in occasione delle nozze, siccome era venuto a contatto con il sacro, avessi addirittura la facoltà di far ritornare la donna, anche se anziana, nelle stesse condizioni fisiche e sentimentali del giorno del matrimonio e quindi ricongiungersi così al proprio istinto. E il lutto come veniva gestito? Beh, diciamo che la donna, come rimaneva vedova, la tradizione le imponeva l'uso del lutto. Il lutto nella stragrande maggioranza delle località molisane e non solo si evidenziava con il colore nero del costume della donna. Però ci sono anche qui al Musek dei casi molto interessanti di costumi da vedova come ad esempio il letino, dove sul nero spiccano delle rifiniture blu e giallo. Il giallo anche in altre culture indo-europee è il colore della morte. Un altro caso interessante riguarda Spinete. La sposa, il giorno delle notte, porta dietro al corpetto, sulle spalle, la cosiddetta tuaiola. È un rettangolo tutto ricamato che sta ad evidenziare proprio lo stato di maritata. Nel momento in cui la donna rimaneva vedova, la tuaiola non a caso si tingeva di giallo.